Sporcizze a terra, poca cura delle strade, spacciatori dietro l'angolo e risse nei bar, ma soprattutto la sensazione di sentirsi esclusi dal circuito dei negozi del centro, sempre coinvolti in molte attività. Questo lamentavano qualche giorno fa i commercianti di via Cesare Battisti. La loro voce attraverso le telecamere di Rette Venete è arrivata a Palazzo Moroni. L'assessore Saia promette aiuto anche se scarica il barile sulla gestione Zanonato. Continuiamo a rimbrottare, a richiamare l'APS, gruppo ERA, per avere un'attenzione maggiore, soprattutto in certe zone. ERA è sotto il gruppo di Bologna, l'APS, quindi l'amministratore delegato che è legato all'ex sindaco Zanonato, dopodiché questa operazione sembra che Padova abbia meno importanza per il gruppo. Quando il degrado scompare, quando c'è più vivibilità, più illuminazione, più pulizia, automaticamente c'è anche meno delinquenza. L'assessore al commercio Eleonora Mosco invece si è già attivata. Ricordiamo che è una zona che deve essere considerata all'interno di un distretto molto importante che prevede via Cesare Battisti, ma anche Ponte Corvo, via Del Santo, via San Francesco, la zona altinata. All'interno di questo quadrilatero sono partite una serie di programmazione che andrà a comprendere una serie di iniziative, dai libri al mercatino con arte del gusto, cercare sempre di coniugare non solo la parte commerciale ma anche quella culturale, un auspicio che li veda uniti e compatti, non occupati da guerre interne, bensì ad un gioco di squadra che porti ad un unico obiettivo, rivitalizzare e riqualificare la zona con il sostegno concreto che questa amministrazione non ha mai fatto mancare a nessun commerciante. L'invito degli assessori a tutti i cittadini è sempre quello di chiamare in comune. Le risposte dicono non tarderanno ad arrivare.